Bentornati amici sul canale di Giovi HD Swap Oggi è domenica e siamo qui con il question and answer della domenica Scorsa settimana ho fatto un video nel quale aprivo questa nuova rubrica E ci sono state parecchie domande, parecchie, insomma, le domande Ci sono state domande che voi mi avete fatto Naturalmente ci sono state domande da cretini E... vabbè, risponderò a tutte queste domande Domanda, questa è bellissima Ma sei frocio? Poi, perché fai ancora video, non vedi che non cresci? Allora, a me principalmente non è il primo scopo crescere Il primo scopo è quello di fare video per vari motivi Se volete sapere perché faccio video, fatemi una domanda Perché fai ancora video? Perché i video sono stati, diciamo, un ancora di salvezza Mi hanno aiutato in alcuni momenti Poi comunque a me piace fare video Piace far ridere gli altri Perché io personalmente sono un scemo Sono un stupido e rito pure per conto mio Quindi sono un po' così Prossima domanda Quanti anni hai? Dove vivi? Allora, ho... Sono vent'anni che sono nato Quindi ho vent'anni E vivo in provincia di Bari, in Puglia Quindi sono pugliese Se qualcuno di voi è pugliese E vuole venirmi a trovare Ci possiamo pure mettere d'accordo, eh? Che squadra tifi? Allora, tifo, inter Ormai l'avete capito tutti La segui sempre? Allora, fino al triplete Diciamo, l'ho seguita sempre Infatti sono andato a vedere Gli ottavi, quarti E la semifinale a San Siro Dopo il triplete Nel 2011 Sia perché mi sono pure fidanzato E non... Cioè, ero già fidanzato Però 2011-2012 Non tanto sono andato Perché Non lo so Si vedeva che non era più Quell'Inter Di prima Se mi è andato Lo state a vederlo E ho risposto Quindi, passiamo alla prossima domanda Quanti anni hai? Lo ripeto 20 anni Cosa ne pensi degli haters? Gli haters Diciamo che sono persone invidiose Gli haters Sul vocabolario Se non erro Sta scritto qualcosa di brutto Qualcosa di invidia Un invidia, diciamo E quindi sono persone invidiose Che mettono dislike Anche se il video potrebbe essere Con il minore editaggio del mondo Metterebbero dislike A prescindere Perché? O perché sono invidiosi O perché sono coglioni O perché non lo so Comunque gli haters Fanno parte di YouTube E servono a YouTube Di che città sei? E dove vivi? Eh, la città non posso dirvela Se no mi venite a... Mi venite a... A violentare Sto scherzando, eh Sto scherzando Sei un politico? Compri i crediti? Comprare i crediti? Sì, sponsorizzo un sito di credit Quindi qualche credit L'ho comprato pure io Organizzerai i tornei su FIFA Allora, su Food14 Su FIFA o Food14? È diverso il fatto Comunque su Food Ho organizzato tornei L'anno scorso Però era troppo incasinato Comunque se volete Che faccia nuovi tornei Posso organizzarli io Naturalmente Li ho già organizzati in passato Quindi potrei anche organizzare I nuovi tornei Naturalmente Ditemi voi cosa ne pensate Se organizzassi nuovi tornei Lasciate un commento Naturalmente Ci dovrebbe essere una tassa di iscrizione Ma più si è E di meno la tassa E più possono essere i monti premi Posso pure mettere io Dei monti premi Cioè Per esempio Voi mi dati 10k Siete 10 persone Possiamo fare un monti premi Al primo 150.000 crediti Li metto io gli altri crediti Perché Grazie a questo sito Che sponsorizzo Comunque Mi arriva anche qualche credit in più A parte FIFA Che altro giochi? Allora A parte FIFA Sul canale avete visto Minecraft Minecraft lo uso solo per fare video The Sims 4 Che avete visto Sul canale Se non l'avete visto Fatelo Vedetelo Assolutamente Gioca GTA 5 Attualmente Giochi a cui gioco sono The Sims 4 Minecraft FIFA Food per Android Questi sono i giochi a cui gioco attualmente Non credo ce ne siano altri Perché comunque Quando mi concentro a fare video Su determinati giochi Il tempo vola E vola E fidatevi che vola Vediamo la prossima domanda Lavori? Eh no Non lavora Come passi il tuo tempo? Il mio tempo lo passo Tra fidanzata Gioco Uscire Andare a giocare a calcetto Perché chi non sapesse Io gioco a calcetto Eh Non sono fortissimo Però Quando arriverai a 1000 iscritti Eh Non posso decidere io Forse per me Vorrei già averli 1000 iscritti Per fare una cosa Perché a 1000 iscritti Si sblocca una determinata cosa Quindi Se volete Aiutarmi a fare Ad arrivare a 1000 iscritti Fatelo Poi Avrete Dei Ci saranno dei Premi Mensilmente Premi che vedrete In seguito Se arriviamo a 1000 iscritti Quante ore Giochi alla play Al giorno? Allora Diciamo che tutti i giorni Non gioco Ad esempio Eh In sostanza Gioco 5 giorni la settimana Più o meno 5-6 giorni la settimana Perché un giorno Di solito non gioco mai Eh Gioco Eh Può variare Dalle 2 alle 4 ore Invece Se faccio il video Giusto Di regolo Gioco massimo 2 ore Perché poi Dove evitarlo Poi sempre La persona che mi ha scritto Questa domanda A che giochi Oltre a GTA e FIFA 15 Oltre a GTA e FIFA 15 Ho detto Gioco a Minecraft The Sims 4 E basta Che altro E basta Sì Ah Gioco a un gioco Sul telefonino Oppure Qualche volta Si chiama Socceriro Spero che Alcuni di voi Lo conoscono È un bel gioco Comunque Le domande sono finite qui Se avete altre domande Da fare Domandi Domande Domandi Che domandi Domande da farmi Lasciate un commento Qui sotto Sotto la descrizione Non Sotto Nei commenti Lasciate un bel pollice All'insù Se avete ottenuto risposta Alle vostre domande Se avete nuove domande Da farmi Fatemele E dunque Qui è Giovi Spò Ci vediamo A un prossimo Video Ciao Ciao